Visita dei rappresentanti della Croce Rossa italiana oggi giorno dell'Epifania al reparto pediatria del San Giovanni di Dio di Agrigento. Il presidente Angelo Vita insieme ai componenti del comitato di Agrigento hanno consegnato tanti doni ai bambini che in occasione della festa sono invece costretti a stare in ospedale. Il presidente della Croce Rossa Angelo Vita ha anche ringraziato il dottor Giuseppe Gramaglia che ha dato loro la possibilità di essere presente al reparto pediatria dell'ospedale. Angelo Vita ha avuto parole di stima anche per i tanti donatori che hanno offerto loro spese e regali ai giovani della Croce Rossa che invece hanno provveduto al loro imbacchettamento e alla distribuzione. Il presidente ha anche offerto la disponibilità dei giovani della Croce Rossa a trascorrere almeno un giorno della loro settimana per fare compagnia ai piccoli del reparto. Il dottore Gramaglia nel ringraziare i componenti della Croce Rossa nell'aver avuto il pensiero di fare compagnia ai piccoli ricoverati un momento di gioia per loro che per i genitori apprezzando la possibilità che viene dalla Croce Rossa a trascorrere un po' del loro tempo con i bambini per farli distrarre. Intanto ultimo giorno per visitare il presepe vivente di Montaperto e il suggestivo borgo agrigentino oggi giornata dell'epifania aprirà le porte per accogliere i magi che giungeranno alla caratteristica grotta dove ad attenderli sarà presente la sagra famiglia. Il sito in cui risolge il presepe sembra essere fermo nel tempo un agglomerato di case che hanno preso magicamente vita per mostrare gli antichi mestieri come guardirraro, scarparo, lavannaro, tutto strettamente legato alla vecchia tradizione rurale agrigentina così come anche le tante degustazioni offerte ai partecipanti.